E' in arrivo Laboratori dal Basso, la nuova iniziativa di arti e bollenti spiriti per i giovani pugliesi che vogliono portare in alto le loro idee, imparando a fare impresa secondo i principi di sostenibilità sociale, economica e ambientale. Laboratori dal Basso prevede tre diverse azioni. I laboratori sono percorsi d'apprendimento ideati da giovani imprese e associazioni pugliesi che si mettono insieme per imparare cose utili a far crescere la loro attività. Se vuoi organizzare un laboratorio, scegli un argomento da approfondire e cerca altre organizzazioni con le tue stesse esigenze. Insieme individuate i migliori docenti da invitare, definendo, se possibile, il luogo dove svolgere le attività e un programma di massima. L'arti vi aiuterà a realizzare il laboratorio e si occuperà dei costi e dell'organizzazione delle docenze. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti. I materiali didattici vengono condivisi sulla piattaforma di Laboratori dal Basso. Così, insieme alla tua idea, puoi far crescere